DIVISIONE Più sei vicino alla morte, più ti senti vivo. Tu sei James, vero? Sì. Chi è quello? Mickey Lauda, il nuovo ingaggio della Ferrari. Ma non è nessuno. Guarda come guida, come un vecchio. Per quale motivo dovrei guidare più veloce? Perché te lo chiedo io. È un duello assolutamente incredibile tra due grandi piloti. La prossima volta ti batto. Non hai speranze. Pensi solo alle feste. Per questo piaci a tutti. Sì, lo so, sono terribile. No, non sei terribile. Sei quello che sei a questo punto della tua vita. Non basta essere veloci per essere un campione. Devi crederci. È tutta la vita che aspetto questo momento. Posso batterlo, fidati. È costante, affidabile. Metterà la vita in gioco quando servirà davvero? Benvenuti al duello più appassionante dell'ultimo decennio. Stogiti! Stogiti! Stigiti! Ma come cazzo avete fatto?